Trovarsi di fronte a un pitone di certo non è una cosa da tutti i giorni, ma vederne uno di notte nel giardino del proprio condominio di certo fa scattare la richiesta di aiuto. È successo nei giorni scorsi in Viale Primo Maggio a Fano, dove intorno alle tre di notte i pompieri sono intervenuti per catturare rettile lungo meno di un metro. Ora sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri forestali, ai quali è stato affidato il compito di rintracciare il proprietario dell'animale. La notizia rimbalzata sui social ha fatto scatenare commenti e condivisioni, ma anche le precisazioni dell'esperto Cristian Gori, educatore ambientale. È un animale non pericoloso, è un pitone reale, un serpente abbastanza elevato nel mondo dei serpenti, per le sue caratteristiche di indole docile, è un animale non molto grande, raggiunge una dimensione che va tra il metro e vento e il metro settanta, non è velenoso, è un costrittore, nel senso che attacca le prede costringendole, cioè quindi la sua difesa è il morso, ma il morso comunque non ha denti molto sviluppati, non sono molto grandi, quindi un animale di questa dimensione non è assolutamente pericoloso. Non è pericoloso per le persone, non è pericoloso per cani, bambini, gatti, al massimo cani, bambini e gatti sono pericolosi per il pitone. Questo animale se dovesse trovarsi in giro è pericoloso per topi e ratti, per capirci, ovviamente non deve trovarsi in giro, è un animale che è originario del centro Africa, per cui il suo ambiente è quello, e perché si trova in Italia? Perché appunto come dicevo prima è abbastanza allevato. Quando vediamo questi animali qua, con queste colorazioni qua, capiamo subito che non sono animali presi in natura, sono tutti animali nati in cattività, in allevamento. Quanti sono i casi di ritrovamento di pitoni in città? I casi che sono viti nelle croniche sono tre. Uno a ottobre 2020, uno a giugno di quest'anno e uno adesso. Ma in realtà sono più i casi che sono stati trovati in giro per Fano. Perché questo? Perché a parte un caso, che è questo qua dietro, di ottobre 2020, che è stato identificato come un abbandono, cioè una persona che Fano ha abbandonato questo animale qua, tutti gli altri sono tutti i casi che sono riconducibili alle stesse persone, che purtroppo hanno avuto una carenza in gestione, una mancanza di cura verso questi animali, per cui sono scappati. Per cui non c'è qualcuno che ha Fano, li libera e fa i dispetti, perché ovviamente sono animali che creano un certo timore, non piacciono a tutti, anzi molto spesso creano spavente paura. Purtroppo ci sono delle persone che per mancanza di cura e gestione, non tenendoli bene, favoriscono queste evasioni. Ci dovrebbero essere più controlli, secondo lei, o più sanzioni? Allora, controlli ci sono, nel senso che questi animali qua sono protetti dalla Convenzione CITES, che è una convenzione internazionale che regola il commercio di questi animali qua, animali protetti, per cui c'è il pitone ma tanti altri. Sanzioni ci sono, ma secondo me non sono abbastanza, perché se un animale di questo tipo scappa, si può incorrere una sanzione di mancato custodia che va sui 50 euro a salire, quindi è anche abbastanza poco. Speriamo comunque che queste cose non riaccadano, perché da una parte crea spavento, crea timore nelle persone di Fano, e dall'altra mette in pericolo questi animali qua. Essendo animali di cattività non originali di questa zona qua, il fatto che si trovano in un ambiente diverso, in un ambiente che non è compatibile con l'erotologia, li mette in forte rischio e pericolo. Una volta che si trova qua, purtroppo va solo a suo discapito, perché non riesce ad ambientarsi, ad adottarsi. Non sarà mai una specie esotica invasiva, come invece altri casi.